Ciao a tutti salmoni e bentornati sul mio canale Allora oggi sarò molto breve e molto veloce perché questo video l'ho già registrato Ma ho avuto problemi con l'audio Quando mai? Ho parlato appunto del fatto che io mi impegno E quando mai? Vi ringrazio per tutti i complimenti che mi avete fatto nel corso del tempo E' un anno che faccio il live streaming Un anno complessivo Nel senso ho iniziato su Twitch tra maggio e giugno del 2018 Ho iniziato per divertimento Per divertimento perché poi anche andavo a lavorare Io mi ricordo che lavoravo nei giorni liberi E ricordo che i primi tempi che andavo a lavorare l'anno scorso Era sabato e domenica Venerdì, sabato e domenica mi sembra E quindi da lunedì al giovedì avevo tempo libero e mi dedicavo al live streaming su Twitch Beh da quell'anno sono cambiate tantissime cose Dall'attrezzatura alla persona Dal seguito che ho avuto alla piattaforma Perché su Twitch avevo 12-13 follower Però c'erano delle giornate in cui facevo anche 30 persone in live Tutte contemporaneamente Quindi mi segnavo a 30 spettatori Ricordo Yakuza Kiwami, Bulletstorm e soprattutto Fortnite Con cui ho iniziato con dei amici così per divertimento E devo dire che un anno fa non avrei mai pensato di avere uno studio tutto mio Di avere tutto questo tempo da poter dedicare al canale e non solo Diciamo non me l'aspettavo e non pensavo che avrei avuto questo pubblico Che oggi, che siete voi Su YouTube Cioè insomma quando uno inizia Non pensa mai Dice cazzo sai Facciamo una live Di solito ci saranno già 20 persone pronte Ragazzi io non faccio in tempo Io programmo la live Non faccio in tempo avviarla Che già ci sono 1, 2, 3 persone Ragazzi mille Cioè spettacolare come cosa Devo dire che io ho avuto nel corso del tempo La fortuna di appunto avere l'upgrade dell'attrezzatura Andate a vedere il video se non l'avete visto E devo dire che Mi sto impegnando molto Mi sono impegnato molto Sono stato 3 o 4 giorni davanti a Rage per finirlo Quando mi si è buggata la missione Però vabbè La Rage diciamo è stata una serie In cui ho voluto portare un gioco E spenderci per portare un gioco Perché mi dicevano Spendi non di bene Ci ho speso i soldi Va bene? Poi non se l'ha cagato nessuno Va bene Devo dire Che sono cambiate tantissime cose Ripeto Per esempio da 13-14 follower Passi a 580 persone circa È un immenso piacere vedere Quando hai 10-12-13 spettatori in live È sempre bellissimo Continuiamo così Speriamo di fare sempre di più Di fare sempre meglio Sia io che voi Devo dire che i primi tempi che ho iniziato Era veramente ansiosa la cosa Perché avevo l'ansia Dico Ok E se dico qualcosa che non devo E se per esempio dico troppe parolacce Capito? Ero tutto abbastanza teso Poi dicevo Ma per fortuna che non c'è la webcam Perché se no E devo dire che effettivamente Quando ho iniziato a fare YouTube Era la stessa cosa Il primo video L'ho fatto senza audio Perché stavo tutto tremando Non so se si vede nel video Ma stavo tremando Perché mi Mi ero emozionato Ok? Mi vergognavo un po' Però mi ero emozionato E pensare che però Da quel giorno Del 2017 A oggi Cioè 2017 2018 2019 2017 è il primo video 2018 le prime live 2019 Per me diventa un lavoro Perché io qua lavoro Io non è che mi diverto ragazzi Io ho deciso Dopo Due anni Tre anni Di far diventare questo il mio lavoro Perché? Perché nella ristorazione Come ho già detto Si guadagna poco E ti sfruttano Ok? Questo penso che Chi di mestiere lo sa Poi Soprattutto per il fatto Che io Ho mio padre Che è disabile E quindi Devo essere Diciamo Disponibile Ogni qual volta Che ha bisogno Perché la mia famiglia Nel caso in cui Avesse bisogno Di andare A fare una visita Urgente Così Siamo random Io devo essere presente Quindi Ho deciso Di lavorare Da casa Questo non vuol dire Che non faccio un ca La mattina e la sera Questo vuol dire Che io mi alzo La mattina Devo dire Che spesso L'endieri Posso decidere Io a che ora Alzarmi Ma non più tardi Delle Mai più Mai più tardi Delle undici A meno che non sia Proprio sabato Che non lo so Abbiamo fatto Chissà qualcosa Cioè Che ne so Che ho fatto Tipo una live La sera Fino a tardi O che cacchio Ne so E Devo dire Che effettivamente Lavorare da casa Per questo motivo È molto utile Devo dire che Effettivamente Per aiutare la famiglia È tantissimo Devo ringraziare Tutte le persone Che mi seguono Tutte le persone Che quando Ho un crollo Mi Mi sollevano Tutte le volte Che mi commentano Dai Forza Riprenditi Non ti preoccupare Cioè devo dire Per tutto ciò Vi devo dire grazie Ma Soprattutto Dovete Dovete capire Che non ho ancora capito Che questo Era un lavoro Che è un lavoro Che io sto qui Dalla mattina Alla sera Cioè io non è che Non faccio un ca Dalla mattina Alla sera Io mi alzo Faccio colazione Faccio di sotto Fare colazione Fatta colazione Vengo qui Accendo il pc E mi metto a fare Tipo adesso Mezzogiorno È 20 Sto a fare questo video Perché sono uscito Prima Perché ho acceso Il computer 15 minuti fa Però Per dirvi Di solito Mi alzo la mattina Faccio colazione Vabbè Torno qua Cioè vengo qui Accendo il computer E faccio O registro O edito O che ne so Programmo qualcosa Capito O lavoro su una copertina Perché qualche volta Anche questo Cioè Non è che la copertina È così Ci vuole un po' di tempo Ragazzi Per fare le cose Quindi con calma Tranquillità Al contrario di chi magari Non sa fa niente Però su youtube Non fa altro Che lamentarsi Che non ha i soldi Che i casi umani No E questo per esempio È una cosa Che dovete capire Mi dà fastidio Nel corso del tempo Io ho fatto Video streaming E investimenti Lasciamo perdere E ho 580 iscritti circa C'è gente che non ha mai fatto un ca Ok Voglio essere family friendly Più possibile Almeno per oggi E ha 300 400 500 Mila iscritti Mi dà fastidio Perché questo vuol dire Che il popolo italiano A livello di youtube Preferisce i casi umani Quindi Alzo le mani Comunque Per dire No Passato un anno Da twitch Da youtube Ancora no Da youtube Siamo Mi sembra a febbraio Quando iniziai Quando compri la connessione Per farlo Sì E devo dire che È sempre un'emozione unica Andare in live Se non vado in live E non ho nulla da fare Perché può capitare Mi annoio Mi annoio Mi annoio L'altro ieri No ieri L'altro ieri Per la prima volta Dopo 4 mesi Sono andato a dormire Dopo pranzo La prima volta La primissima volta Raga Qua vi faccio capire tutto Ragazzi Purtroppo In un anno Ho riscontrato anche Un sacco di problemi E questo lo sapete Continuo a avere Dei problemi tecnici Io non sono Un tecnico informatico Io informatica Mi intendo Quel poco che serve Perché informatica Purtroppo Qui in Italia Non ce l'hanno insegnata Né alle medie Né alle superiori Cosa che dovevano fare In Polonia In Polonia invece Per fortuna Ho avuto il piacere E l'onore Di studiare informatica Già all'età Di 6-7 anni E quindi qualcosa Di computer Mi intendevo Ma quando Mi intendevo Di computer C'erano ancora Quelle Non mi ricordo Come si chiamano qua C'erano delle schede Non esisteva Neanche l'USB Cioè l'USB esisteva Ma non c'erano Le pennette USB C'erano dei dischetti Che si mettevano Sul PC Che servivano Come memoria Ragazzi Stiamo parlando Di veramente Tanto tanto tempo fa E quindi Molti problemi Non riesco a risolverli Da solo Qualcosa ho risolto Qualcosa mi aiuta Irene Però non possiamo Fare tutto da soli Scusate per il cane Per i cani Allora E purtroppo Non posso fare Tutto da solo E non Non riesco Non posso E non è Non è Non è Non è Non è fattibile Quindi ragazzi In un anno Ho avuto tante esperienze Ho avuto tante persone Che mi vogliono bene Ho conosciuto Delle persone Belle Che vorrei salutare In questo video Anche se qualche volta Entrambi Mi fanno Bollire il sangue Ciao Giulio Ciao Mirko Vi voglio vedermi raga No ma anche altre persone Come Per farvi un esempio Dani Brescia Daniele Brescianini sarebbe Che ne so Tanta di quella gente Adesso Non voglio fare Ho fatto un casino Non voglio Che la gente Si ingerisca Ok Quello l'hai salutato nel video A me no Ragazzi Non mi ricordo tutti Io vi dico Quelli che Di solito Mi stanno sempre più A portata di mano Che mi stanno sempre scrivendo più Sempre di più Ringrazio soprattutto I miei Scusate per il casino Non posso farci nulla Ringrazio soprattutto I miei moderatori Ragazzi Perché state facendo Un ottimo lavoro E vi ringrazio per questo Vorrei salutare anche Luca Che non si vede da Boh un secolo Però vabbè Speriamo che oggi In live ci sarà E detto ciò ragazzi Io ripeto Vi ringrazio tutti quanti Soprattutto i moderatori Perché è un impegno Che hanno voluto E che stanno facendo bene Come Davide Come Peppe Come Duty Shark Che ne so Vapm Killer Tutta sta gente qua Va bene? Più o meno Voi salutati Quelli soliti Oltre a Danny Brescia Vorrei salutare Anche tutta la compagnia Che è Ghek Giusto? O Ghek Scusami E fra 64 Che altro c'era poi? Basta perché poi Ero io il quarto Vorrei anche salutare Il mio cugino Simone Se guarda questo video Ciao Simo E niente Detto ciò Vi saluto Ci vediamo Oggi In live Per le sfide di settimana Bella Ciao